Amici e amiche, benvenuti, benvenuti qui nel primo video dell'assalto vero e proprio a tutte le monumento del nostro Franz Kaiser. Oggi ragazzi vivremo insieme, ho cambiato idea, vivremo insieme tutta quanta la Milano Sanremo, quindi sarà molto discursiva tutta per otto fino ad arrivare a un certo punto ovviamente, lo sappiamo tutti molto bene quale punto è. Allora, detto questo, prima di continuare, mi tocco ogni tanto lo sto saltando ma mi tocca, lo faccio. Lasciate un bel like ragazzi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni video. YouTube è in un momento di stanca per quanto riguarda notifiche e visualizzazione nel feed, quindi vi chiedo eventualmente di dare una piccola mano, quindi magari una condivisione in più, magari un mi piace in più, anche soltanto un mi piace in più ragazzi. Fa veramente, è assurdo, fa tutta la differenza del mondo. Il mio lavoro non si basa su questo, questo è comunque pur sempre un hobby, ma se possiamo cercare di migliorare la situazione degli hobby, why not? Ora, a netto di questa cosa qui, questa marchiettata qui, c'è anche l'abbonamento a 0,99 per poter dare un supporto in più al canale, anche questo va bene per le metriche ovviamente, siamo ancora 22 abbonati, quindi vi ringrazio ragazzi. Scenderemo a breve con i regali fatti, ma vi ringrazio veramente tanto ragazzi, assolutamente. È una situazione un po' complicata del canale, è una situazione pubblicata a me e personale, quindi tutto il supporto lo sento, lo vivo e vi ringrazio. Andiamo a noi, non prendiamo altro tempo? Scopriamo cosa fare. Mi è stato consigliato di lasciar perdere il Giro d'Italia, quindi prima che la mia mente da ormai 35enne si dimentichi ogni cosa, già lo faccio regolarmente, andiamo qui e facciamo un segno meno e salviamo. È un dispiacere, ma al Giro d'Italia non ci andremo. Mi è stato chiesto di dare un'occhiata al Tour of Norway, non mi sembra proprio top, beh però all'arrivo così potrebbe essere movimentato. Questo è un arrivo in salita, questo è un arrivo. Alla fine della fiera, in certi versi, Franz ricorda molto Primoz Roglic, questi arrivi qua, questi arrivi qua sono dei di Primoz, assolutamente. Questo è un po' piatto, questo è un po' movimentato. Potrei prenderlo in considerazione il Tour of Norway? Sono quattro tappe e a livello di calendario casca esattamente dove. Vediamo, Tour of Norway, 26, 27, 28, 29 e in realtà non c'è nulla. C'è Tour de Suisse anche Tour de France, io sicuramente lo toglierei dalle scatole ragazzi. Ci sta, perché anche Tour de Suisse ci sta ragazzi, eh? Possiamo mettere alla prova alcune delle nostre abilità, quindi bene. Potremmo anche allungare la carriera del Kaiser in un anno di un anno ancora, giusto per vedere cosa può succedere più avanti. Salviamo le modifiche, abbiamo messo le modifiche come volevamo, quindi io non perdo altro tempo, continua. Ragazzi, io incrocio le dita, siamo leader assoluti per la squadra. Abbiamo un contratto da leader assoluto. Noi abbiamo in mano il team Jumbo Jumbo Bisma. Con Tis Benotto, Bias Foss, Edoardo Affini, Ida Schelling, Matteo Moschetti e Gianni Vermersh. Ovviamente con tutti, tutti per il nostro France. Siamo quelli con il livello di collinare più alto in assoluto, in assoluto. Io mi aspetto di avere una forma positiva. Qua abbiamo uno zero, purtroppo abbiamo uno zero, non abbiamo un meno uno. Ci avrebbe dato la possibilità di avere un plus eventualmente, non lo possiamo spendere. Siamo tra i favoriti, finalmente. Sai, dopo che ne abbiamo vinte due su tre, uno, anzi, dobbiamo averne vinti, no, sì, due su tre. E la prima volta che non abbiamo vinto siamo arrivati secondi o terzi. Non ricordo bene, sì, siamo arrivati secondi o terzi. Quindi, voglio dire, dici, l'hai corsa dieci volte, l'hai vinta una, top. Perché vai nel ristretto cerchio il numero di ciclisti che hanno vinto una classica monumento, una delle classiche più, cinque delle classiche più importanti nella stagione. Però, insomma, noi siamo già due. E io sinceramente vedo la terza. L'obiettivo di questa stagione è quello di vincerle tutte, ovviamente. L'obiettivo minimo, chiaramente abbasso un attimo la sticella, perché è veramente una cosa super... C'è la Fluest Canal Discovery, il mio cuore si riempie di gioia. Veramente di gioia. L'unica cosa in più, secondo me, ragazzi, come obiettivo minimo che dovremmo ottenere lì, è quella di essere... almeno di portare a casa le due monumento che mancano. Perché non ne mancano tantissime, ne mancano tre, scusatemi, le tre monumento che mancano. Perché manca a Fiandre, secondo me, ci siamo. Manca a Lombardia, sarà molto complicato, ma potremmo farcela. E manca la Parigi Urbè, che secondo me è la più difficile, tra tutte e tre, quelle che ci mancano. Però, ragazzi, siamo qui. Stiamo partendo da Milano. E abbiamo uno zero. Io me lo porto a casa, ragazzi. Me lo porto a casa, molto carinamente. Siamo leader assoluti. Finisci tre primi tre. C'è uno scattista outsider che è Thies Benot. Io sinceramente a Thies Benot gli dico subito di stare con me. O Tobias Foss? No, Tobias Foss. È messo meglio, è messo meglio. Banalmente sono anche, non dico messi meglio di noi, perché noi abbiamo comunque dei valori importanti, quindi andiamo a più qua, a per otto subito, e restiamo in fondo. Non c'è bisogno di correre, non c'è bisogno di far fatica. Abbiamo una forma al 95%, siamo arrivati alla stagione delle classiche nel momento della nostra forma che può solo migliorare. Ripeto, incrociamo le dita. Questo è il monumento più facile, tra molte virgolette, ed è quella che eventualmente possiamo anche non vincere. Abbiamo già vinto e due di Milano Sanremo. Quindi, top. Mi chiedono delle varie tre primi tre. Sarebbe importante farlo, ragazzi, più che altro per un discorso di classifica, perché noi abbiamo già vinto, l'anno scorso abbiamo 800 punti, noi dobbiamo difendere questi punti. Se noi arriviamo a secondi o terzi, scendiamo di punteggio in classifica. Se noi invece vinciamo anche questa, anche quest'anno, scusatemi, riusciamo a stare lì, ok? Con il punteggio. Non so, può gacciar se c'era. Non so cosa ha fatto. Lui è il primo in classifica. Ma i primi in classifica perché hanno un altissimo valore le corse a tappe. Peccato perché con Pipinio saremmo stati i primi sempre per sempre, perché, chiaramente, saremmo stati i primi sempre per sempre. E c'è da dire che vinceremo da monumento da 800 punti. Non sono pochi, attenzione, ne sperava meno in mille, però ne da 800. Vincere anche soltanto 3, 4, 2, 3 tappe e portarsi a casa alla vuelta porta molti, molti più punti, circa 2.000. Cavoli, è come vincere due monumento e mezzo. E che cazzo? Perdonatemi. Secondo me andrebbe rivisto, non sono sicuro che sia fedele, fedele al punteggio dato nella realtà. Mi verrete a correggere voi eventualmente perché su queste cose qua siete sempre molto precisi e avere una community così molto precisa e pignola per me è super figo. Passo del Turchino. Prima leggera, leggerissima salita, 24 km con la pendenza media dell'1.4%, quindi super easy. io però inizierei a far vedere il nostro France un po' più avanti perché un po' mi disturba essere così indietro ma non serve far fatica. Sì, ho sprecato un po' di barra gialla ma confido che nella discesa seguente noi recuperiamo tutta la fatica fatta, tra virgolette. La fuga d'avanti sono in tre i disperati di giornata e sono Burgodeur, Stitz e Conca. Ok, va bene. Verranno ripresi molto velocemente. Abbiamo provato a vedere fughe da due persone a vendere 11-12 minuti. Non c'è assolutamente nessun problema. Qua riceviamo l'acqua e a questo punto inizierà a fare un... diminuiamo da per 8 a per 4. Iniziamo a fare un ragionamento. Sulla salita più importante quindi ovviamente il... come si chiama? Il poggio che vedete le mie spalle che chiedo venia correggo subito. Ora siamo messi in giro, scusatemi. Non mi ero ricordato. Diciamo che in quella salita la salita del poggio signori qua sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare che è quello di salire circa metà della salita circa metà quando ci troveremo in questa situazione a metà però non servono tanta gente non serve tanta gente a farci il treno rischiamo di portarcene dietro troppa quindi io utilizzerei eventualmente un treno di due ciclisti davanti a noi ovvero Tisbeno e Tobias Foss ce li portiamo dietro li facciamo andare a cannone perché facendoli andare a tutta essendo la terza ruota spendiamo poco in maniera tale da fare poi lo scatto a metà del poggio riuscire a scollinare andare giù in discesa acrobatica e tenere a tutta gli ultimi chilometri e il fatto che pianura abbiamo un più uno top perché ci facilita il compito di tenere la velocità l'andatura negli ultimi tre chilometri che mancano dall'arrivo che si è accaduto Brandon McNulty mi spiace per lui abbiamo anche un più uno di sprint che male non fa ce lo porta a 74 ci rende decisivi grinta più uno aiuta semplicemente la barra rossa quindi solo top e direi di andare non abbiamo più uno in collina ma ragazzi tra 83 e 84 non c'è differenza mi sta bene non c'è differenza neanche tra 73 e 74 in sprint però è un valore che avevamo basso averlo un po' più alto da sempre una mano siamo a 60 chilometri dall'arrivo intanto cercherò di fare questo video il più breve possibile dato che appunto è un monumento che possiamo affrontare così liberamente parlando fino a un certo punto stiamo arrivando alle prime salitelle a Capomele e poi ci sarà Capocervo eccetera la fuga ormai è ampiamente recuperata io non sto dicendo a nessuno di andare a fare il lavoro di fatica sta andando moschetti caduta importante dietro cade Battistella Burgua Hepburn e altri ma non così importante ora siamo a Capoberta e noi siamo davanti la cosa mi fa molto piacere perché Capoberta attacco di Conca intanto attacca davanti ovviamente uno dei fuggitivi per cercare di essere più avanti possibile noi restiamo lì iniziamo ad andare a siamo già per 4 iniziamo ad andare a per 2 si iniziano a muovere i primi quindi noi ci facciamo anche noi vivi noi ci facciamo anche noi vivi e andiamo nelle prime posizioni Bettiol Turner e Garcia Cortina provano un attacco improvvisato pre cipressa mi pare un po' eccessivo io chiedo a moschetti di fare il lavoro quello che distrugge di mandarla a 85 chiedo a Tobias Foss di stare davanti a me e chiedo a Tisbenot di avvicinarsi perché è un po' indietro e non vorrei ci fossero poi dei problemi quindi Tisbenot si esatto si aggregerà dietro a si aggregerà dietro a Franz Kaiser e poi saremo tutti lì Sitis e Garcia Cortina prova ancora secondo me sta sprecando il suo tempo il suo fiato perché siamo alla cipressa abbiamo tanti uomini da poter buttare lì Tisbenot è arrivato quindi io chiederei di sistemare il treno Tisbenot va davanti nonostante siamo proprio 79 80 però Tobias Foss è un po' in difficoltà allora di mettere davanti Benot e dietro Franz Kaiser proviamo a far così esatto spendiamo un po' di energia per restare davanti alla cipressa senza problemi Moschetti sta facendo un lavoro incredibile per andare a tenere lì Garcia Cortina che mantiene quei secondi di vantaggio ma vedete è molto in difficoltà io chiedo anche a Schnelling di andare a dare un cambio a questo punto a Moschetti per eventualmente gestire il tutto noi ovviamente stiamo recuperando ecco il caso siamo già attaccano anche con Tobias Foss e essere davanti è molto importante ora non perdiamo tempo in chiacchiere stiamo lì perché sta per partire a breve a pochi chilometri mancano sette circa al poggio di Sanremo stiamo davanti attacco di Iwan Arnaud Delis si è messo davanti già Manten attenzione perché qua secondo me Arnaud Delis hanno usato hanno usato la foglia hanno usato la foglia e nuovo ha mangiato la foglia al massimo portiamoci davanti signori dai portiamoci davanti con Tobias Foss vediamo se riusciamo a stare davanti perché stanno tirando molto a cannone chiedo a Schnelling e a Moschetti di non fare troppa fatica non c'è più bisogno perché Cassia Cortina è qua davanti a noi ed è in questo momento ripreso siamo a 700 metri dal poggio di Sanremo ne proviamo subito lo strappo immediato con Tobias Foss proviamo lo strappo immediato con Tobias Foss e andiamo e andiamo vediamo chi ci segue vedete che la barra già la sta diminuendo ma non così velocemente come sta diminuendo Tobias Foss vediamo dove siamo messi al poggio ragazzi siamo circa quasi pronti al momento dell'attacco di del France Tobias Foss è andato faccio un rilancio veloce con Tisbenot e poi provo lo scatto e poi provo lo scatto signori provo lo scatto Moschetti deve rimanere tranquillo non devono tirarmi addosso però se no siamo punti a capo proviamo lo scatto con il France provo lo scatto perentorio vediamo che lo segue Mantener che va poi viene un po' coperto va poi viene un po' coperto nello scatto attenzione va poi viene un po' coperto è stato murato involontariamente credo dai dai ragazzi della della lotto Destiny Pitchcock McNulty e Ganna male male molto molto male perché siamo portati dietro gente che è bruttina da avere dietro che è bruttina da avere dietro andiamo giù in aggressività e poi andiamo al gelino andiamo giù in aggressività perché questa gente qui è brutta questa gente qui è brutta da avere dietro i secondi non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochi 8-10 secondi dobbiamo averne una decina in più per star tranquilli e così non lo siamo però abbiamo recuperato tutta l'energia tutta l'energia l'abbiamo recuperata ora andiamo subito direi 92 direi 92 o 13 secondi potrebbero bastare per fare l'impresa guardiamoci dietro guardiamoci dietro guardiamoci dietro guardiamoci dietro arrivano a cannone arrivano a cannone e proviamo lo scatto adesso proviamo lo scatto adesso restiamo davanti Vanderpool restiamo davanti Vanderpool e sono tre e sono tre signori sono tre tre saremo su tre su quattro scusatemi tre saremo su quattro mamma mia france è stato e guardate guardate sarebbe andiamo a rivedere il replay perché l'attacco di Vanderpool sulla risposta cioè la risposta di Vanderpool sul nostro attacco poteva essere micidiale arrivare in fondo con Vanderpool sarebbe stato un grande dito nello sfintere fortunatamente involontariamente Arnaud Delis forse c'era davanti anche Milan Manten esatto Milan Manten erano lì erano lì della lotto destini stavano tirando l'hanno schermato involontariamente l'hanno schermato involontariamente noi signori ci prendiamo una rivincita importante ci prendiamo la rivincita importante noi eriamo davanti in scatto perentori alziamo le mani al cielo e andiamo a rivedere velocemente il replay perché dobbiamo andare a vedere sullo scatto del nostro france non sono disconnesso ecco qua stiamo partendo appunto BS Foss no qua siamo ancora la cipressa ok qua partiamo guardiamo Manten vedete che segue ci segue qua chiedoti non tirare più qua parte france e guardiamo dietro cosa succede ecco Wanderpull guardate come viene schermato guardate come viene schermato viene schermato da Manten poi riparti in attacco ovviamente ma ha sprecato tempo e noi siamo usciti ad andare avanti e poi si è fermato e poi si è fermato Wanderpull avevamo più uno guardate le statistiche voi fate voi un calcolo veloce yes ragazzi ragazzi guardate guardate che abbiamo fatto abbiamo fatto non abbiamo fatto il miracolo abbiamo creato un ciclista che è incredibile un ciclista che è incredibile si porta a casa la quarta monumento gli hanno letteralmente intitolata una via non si arriverà più a via Roma mi sembra che la riva via Roma è a via Franz Kaiser la riva 3 su 4 3 su 4 e veramente che nervoso poteva essere 4 su 4 ma il gioco ci aveva tolto se vi ricordate la disponibilità dei compagni di squadra che qui come nelle passate volte ha fatto tutta tutta la differenza del mondo io non vi tengo e non vi tedio oltre correrò per i cavoli miei E3 Saxo Classics e Game of the World che alla fine abbiamo deciso di fare tutti e due la fatica un po' mi fa paura ma faremo faremo tutte e due ci terremo solo no signore se vede cosa faccio tolgo la gambe vi spiego perché non vi incazzate guardate tutte queste li vedete quelle zone azzurrine sono le zone di esposizione ai venti io ho appena fatto 292 km ne devo fare altri 196 non voglio caricarmi di altri 255 km qui nella Game of the World la togliamo la togliamo perdonare oggi aggiungi togli aggiungi togli ma la togliamo abbiamo punti lo fa quello che vogliamo la togliamo ci faremo una settimana di riposo praticamente una una e dopo di che ci lanciamo a ronde che sarà prossimo episodio noi ci vedremo la ronde ragazzi nel prossimo episodio facciamo una corsa settimana secondo me è giusto così assolutamente giusto quindi anzi la faccia valore potrei anche toglierla però la lasciamo correrò le tre per i cavoli miei e poi andremo a correre il ronde insieme ragazzi il fiandre è un obiettivo importantissimo siamo a 10 partecipazioni alle classiche monumento no 16 partecipazioni alle classiche monumento ma ne abbiamo vinte 4 quindi un quarto se so fare i conti 48 12 16 incredibile fare i conti un quarto delle vittorie al monumento bisognerebbe secondo me andare a vedere i migliori i più forti di sempre avranno uno score del genere abbiamo creato ciclista che volevamo con il piccolo aiuto esterno ma davvero ce l'abbiamo fatta detto questo ragazzi non vi tedio oltre vedremo poi nel prossimo episodio se questo basterà ma secondo me rimaniamo così di classifica non cambierà ma abbiamo un grande vantaggio su Sergio Gita è una sfida 2 tra noi e Tadei ottimo sfida 2 ci dà quasi 900 punti va bene detto questo ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio tutti insieme per il France tutti insieme per il France proviamo a andarci a vincere tutte le monumento 1 su 5 era la più facile ma partire col piede giusto è sempre una buona cosa alla prossima ragazzi